Con il portiere del sud Tirol Schoffenhecker, al di là della partita di oggi, è arrivata una bella notizia in settimana con la convocazione della nazionale maggiore di Ghedin. Sì, diciamo che avevo già fatto parte delle nazionali giovanili e quindi sono proprio contenta di poter continuare la mia strada con la maglia azzurra. Quindi questo va a confermare l'ottimo lavoro che comunque stai facendo a livello personale ma anche con la squadra del sud Tirol? Sì, con la squadra non stiamo facendo bene al momento, però abbiamo le qualità e dobbiamo tirarle fuori per salvarci.